La dieta mediterranea è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Una vera risorsa per la Puglia, per questo diventa protagonista di Cultivar 2014, la mostra a mercato organizzata dall'Associazione Cultivar 20 e dal GAL Valle d'Itria in collaborazione con il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura. La quinta edizione della rassegna si svolgerà da oggi a domenica nella masseria Mangiato a Martina Franca, un'antica azienda agricola del 1500 sulla vecchia strada che da Martina Franca conduce ad Alberobello. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di cooperazione transnazionale LIDERMED che punta alla valorizzazione di questa ricchezza di casa nostra. Coniugando il comune interesse per le biodiversità, per i frutti della terra e per la cultura della buona tavola, Cultivar offre la possibilità di realizzare un vero e proprio festival della dieta mediterranea. Ben 16 GAL, gruppi di azione locale, coinvolti nel progetto LIDERMED che animeranno la manifestazione Cultivar 2014 proponendo un ricco programma dall'angolo parlante per la condivisione e lo scambio di buone pratiche ai laboratori di degustazione e ai cooking show. In questo spazio alcuni esperti si cimenteranno nella preparazione dei piatti più tipici dei territori da cui provengono. Inoltre, grande spazio al comparto Food & Wine. In passerella, cardi e carciofi, primitivo di manduria, cipolle bianche di margherita di Savoia, pomodori di morciano, pane di la terza, olio DOP della terra d'Otranto e molto altro. In programma, infine, anche una mostra fotografica e un'estemporanea di pittura sulla dieta mediterranea.